Ebbene a tutti ragazzi sono Ziani di questo canale e oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars Allora ragazzi questo è il secondo video che uscirà domani martedì e direi facciamo 20 minuti di video di Brawl Stars Quest'oggi siamo più carichi di ieri perché ieri era una diciamo una virgolette prova Quindi oggi giocheremo a Brawl Stars e cercheremo di scalare un po' di coppe ragazzi Molte coppe dobbiamo arrivare a 20.000 ragazzi il mio obiettivo sarà quello delle 20.000 coppe Quindi ragazzi iniziamo subito le partite e io direi che come prima partita possiamo utilizzare il personaggio di Tara Direi di partire subito Ok ragazzi siamo in partita siamo qui e cercheremo come ho già detto e ripetuto di vincere Perché voglio salire di tantissime coppe Ok siamo Tara e abbiamo già un power up Io volendo poter utilizzare 3 gadget ne ho 3 a disposizione e quindi appena voglio utilizzarlo lo utilizzerò Tranquillamente Aha eccolo lì No mi si era bloccato il personaggio non so per quale scuro motivo Però mi si era bloccato il personaggio Ok ok Faremo 20 minuti di video E ovviamente cercheremo di non perdere nemmeno qualche secondo Perché più secondi perdiamo il video meno viene lungo Allora c'è un coltoli che ti dirò che non mi sta molto simpatico anzi io utilizzo un gadget E vedi ok lì dentro c'è un brock che mi sta aspettando Mi dispiace ma ti ho visto mio caro brock Lo sapevo che avresti utilizzato i tuoi colpi Io quindi passo a proseguire in questo momento Ok ragazzi Situazione abbastanza stabile Devo per forza utilizzare adesso l'altro gadget Direi di pushare questo brock a cercare di killarlo Perfetto ragazzi scontro finale Se non mi sbaglio contro una col No Energia No Secondo posto ragazzi Peccato 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 Va bene Come prima partita ragazzi è andata anche bene Dai Perché male no Cassa brawl Dai pensavo che cosa invece Vabbè Uh tra due soglie abbiamo una mega cassa ragazzi E anzi io direi a sto punto di fare un po' di missioni Finiamo con i giornaliere Pam E a raffa gemme Perfetto andiamo subito Non ho visto le missioni ma penso che sia ripristinare con Pam E se non ho visto male eliminare i nemici in a raffa gemme Quindi Direi di continuare questa missione Visto che eravamo già a un bel punto Cioè a un bel punto della questione Diciamo l'avevamo già quasi finita Se non ho visto male O almeno una delle due E quindi ragazzi io direi di continuare E vedere se riusciamo già a finire in questa partita Perché io poi vorrei tornare in sopravvivenza no Allora Uh ok Ottimo No Non lo so cosa fare adesso Eh cacchio Sto in difficoltà ragazzi Perché questi sono forti Allora Non lo so eh Perché Allora io direi Iniziamo a colpire un po' col tic Perfetto Così Ok eliminato Ora Direi Cerchiamo di uccidere i nemici Ok Stiamo recuperando Uh Ucciso un altro Quindi ragazzi Stiamo già a un bel po' di cura E a un bel po' di kill Tipo 4 o 5 kill Siamo In totale eh Non è che in questa partita Abbiamo già fatto così tante kill E quindi abbiamo fatto tipo 2 Se non ho contato male I semi conti Non sono Sbagliati Quindi ragazzi Stiamo andando bene Ok Perfetto Almeno un'altra kill Te ne chiedo almeno un'altra Ok Abbiamo fatto 4 kill Quindi a kill Dovremmo essere a 6 su 9 E a cura Non lo so Forse a cura L'abbiamo finita Ma non ne sono sicuro Ok ragazzi Dai adesso controlleremo E vedremo Allora Intanto abbiamo vinto Quindi altre coppe Per lui Vediamo Allora Eh dai Allora ci manca Ok dai Mettiamo gioco ancora A sto punto Un'altra ce la facciamo Scusate se ogni tanto Mi distacco dalla voce Ma ragazzi Vi spiego Praticamente ho scoperto Che Mobizen Ogni tanto Mi fa la voce Ovattata Perché parlo troppo piano Quindi mi tocca urlare Però se io urlo Poi normalmente Mi fa male la gola Quindi ogni tanto Devo Devo fermarmi Per respirare Scusate ragazzi Scusate Quindi ragazzi Se ogni tanto Mi sentite distaccato È per questo motivo Perché poi mi viene Mal di gola E Non riesco a parlare più Quindi ragazzi Quindi ragazzi Sperando che apprezzate Quello che il The Young Fa Farsi venire Il mal di gola Per fare i video Bel contenuto Che apporto ragazzi Sì 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 Potrebbero Mi potrebbero denunciare Per Autolesione No vabbè Autolesione Sarebbe il dolore Alla fine Cioè No Sarebbero tipo I tagli Ste cose qua Quindi tipo Dolore Non possono farmi niente Ma perché stiamo parlando Di ste cose Quando siamo su Brawl Ragazzi Cioè Non ha senso Sono stupido io Quello lo sappiamo tutti quanti Però Dobbiamo specificare Quindi Uh Abbiamo ucciso questo Ragazzi Se uccidiamo l'ultimo Secondo i miei calcoli La missione è completata È Completata L'abbiamo ucciso noi Non l'abbiamo ucciso noi Che Rosic Non l'abbiamo ucciso noi E noi dobbiamo fare ancora L'ultima kill Ragazzi Quindi questo è un problema No Dannazione ragazzi Dannazione Siamo già 6 minuti e 40 Eh Sto video sta venendo Decisamente bene Da quel che sto vedendo Poi non lo so Ragazzi Se volete che vi continuo A portare un video al giorno Io ovviamente lo sto facendo per voi Raggiungiamo tanti like Ragazzi Che Poi Magari continuerò Ok ragazzi Ah Peccato No 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 Ok Dobbiamo difendere La nostra compagna Perché altrimenti Finirà Ok Perfetto Vai 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 Mori 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 No ho detto Mori 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 Perfetto Vai Sì Vittoria Ok ragazzi Penso che abbiamo finito Le missioni giornaliere Quindi direi che possiamo Immediatamente procedere Con le altre missioni Allora abbiamo Vinci 8 partite con Barry Sconfigge 24 nemici con Bibi Vinci con Jackie E poi tutto col passo La maggior parte Quindi Allora Vediamo Posso fare Bibi Magari Che devo sconfiggere 24 nemici Quindi direi Di andare immediatamente In sopravvivenza Singolo Ragazzi E iniziare a sconfiggere I nemici con la signorina Bibi Allora Siamo a 8 minuti Di registrazione Va bene Penso di farlo Di 20 minuti Come al solito E Boom Ok Colpita subito Ragazzi Scusate Vi ripeto C'ho ogni tanto La pausa Ma Non ce la faccio più A parlare Vi giuro Cioè raga Quando sto video finisce Penso che Mi verrà Un Mi verrà Un Un affanno Che non avete idea Tipo Di 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 5 minuti 10 minuti Ma anche 20 Cioè Mi sto distruggendo la cola Però Vabbè dai Quindi Cioè non facciamoci problemi Non fatevi problemi Non vi preoccupate Ovviamente scherzo Cioè La gola mi viene a fare male comunque Però non è che Muoio Quindi ragazzi Non vi preoccupate Tutto a posto Io lo sto facendo solo per voi Perché mi piace portare contenuti sul canale Perché soprattutto Mi piace parlare con tutti voi Mi piace vedervi Vabbè vedermi no Perché non posso vedervi Però Al massimo mandarvi un abbraccio virtuale A tutti i miei fan Che Ovviamente voglio bene a tutti quanti Anche i haters Non vi preoccupate Voglio bene anche io a voi Sempre iscritti siete alla fine Aspetta no Ma se non sono Se sono hater Non possono essere iscritti No Quindi Ai hater Non voglio bene Però Beh Magari Riappure che è scritto Perché magari Aspetta le notifiche Per dimmi Che i miei video Fanno schifo Quindi Anche se sei iscritto E basta Cioè mi insulti A me va bene Ti voglio bene lo stesso Quindi non ti preoccupare Se invece sei un hater E non sei iscritto Allora la cosa cambia E lì Non ti voglio più bene Questo gelindo Fa male Vedo Allora Intanto siamo a metà video Ragazzi Avevo registrato già più di metà Cioè no Avevo registrato metà video Che più di metà video Ma dai Cioè Sto dynamite Eh dynamite Come si chiama Gelindo Ha usato la sua Suprema Eh la sua Suprema La sua ulti Ragazzi dai Scusate ma Veramente non ce la faccio E Ha usato la sua ulti E mi ha annullato il colpo Cioè se non mi ha Se non aveva quella ulti Era morto lui Cioè ma ci rendiamo conto Della fortuna Che la gente ha su bros stars Dai Cioè mamma mia Troppo fortunata ragazzi È troppo Troppo Ok Siamo a metà video ragazzi Eh vorrei farlo Di 20 minuti media Quindi Vediamo di Giocare altri 10 minuti E Giochiamo semino Dai Un po' di semino Le missioni ragazzi Ho un'idea Ogni video di brawl Cambiamo argomento Tipo nel primo Questo qui Facciamo scalata Nel secondo Magari facciamo Le missioni No Le missioni Oppure Box opening Non lo so Tipo Magari una volta Box opening Poi una volta Scalata Una volta Sete di power Una volta Challenge Estreme Su bros stars Ragazzi C'è di tutto Di più Non vi preoccupate Posso portare Veramente Tanti contenuti Non Mi fate problemi Ovviamente Sto morendo Perché parlo E basta Quindi ragazzi Io vi chiedo Di concedermi Almeno un game Dove mi devo concentrare E quindi parlerò E quindi parlerò di meno Perché vorrei Scalarmi Almeno per una partita In modo serio Semino Quindi scusate Parlerò di meno Però Voglio un attimo Concentrarmi Per recuperare A partire Da adesso Ok C'è questo Peril Che Gli sto regalando Power up E c'è questo 8 bit Che mi ha Rotto Le scatole Ecco Quante coppie Avevo perso Con Semino A me un po' Vedere Ah bene anche troppe Tipo Le recuperiamo Fast Fast Proprio Allora 12 minuti Io direi che facciamo Tipo No L'ultima partita No Perché deve venire 20 minuti Non credo che L'ultima partita Turi 8 minuti Quindi Dai Ma quante coppie Ho perso Ora mi devo Sfogare Dai regà Ho perso 9 coppie 9 coppie Va bene Va bene Le recuperiamo Le recuperiamo Poi Adesso Vorrei cambiare Un po' Mi metto Ragazzi Mi metto Mi metto Mi metto Mi metto Mi metto Mi metto Un brawler a coppie alte Ragazzi Stavolta Un brawler a coppie alte Maxine Let's go Come on Zzz E andiamo in footbrawler Ragazzi Quindi ragazzi Siamo a 13 minuti Di video Ormai Tra poco Il video finirà C'er 5 minuti Circa Quindi Non vi preoccupate Allora Allora Se i miei video 20 minuti Vi piacciono Supportateli ovviamente Con un like E se non siete ancora iscritti Con una bella Anche iscrizione Mi fareste Fareste un young Molto felice E che fai Non ti iscrivi per fare Young felice Ma certo Che ti iscrivi Quindi tu E se non sei ancora iscritto Non dico altro Perché io e il 2 Abbiamo già architettato Una cosa ragazzi Che è proprio Ai mille iscritti Mamma mia Cosa diventerà Mamma mia Cosa diventerà Mamma mia Cosa diventerà E se la porto a casa 8 colpe portate in saccoccia Ragazzi Ok La mia voce ragazzi Ormai sta scomparendo Dopo questo video Scomparirà la mia voce E non mi sentirete per giorni Però quello non è un problema Perché ovviamente L'importante è portare questo video Per domani ragazzi Cioè io sto registrando Perché vorrei portare un video al giorno Altrimenti Col cavolo Che registravo stasera Che sono pure Le 9 e mezza Di sera Quindi ragazzi Cioè Io sto registrando per voi Quindi vi prego Almeno supportatelo Mamma mia Ragazzi Non riesco più a parlare Sono distrutto Sono proprio Distrutto Tu volevi fare il flick E ora il flick L'hai fatto proprio bene L'hai fatto proprio bene il flick L'hai fatto proprio bene il flick L'hai fatto troppo bene il flick Un po' Raga Due secondi Che mi devo recuperare la voce Ma lo sto perdendo tutta Ok Sì Parlerò piano adesso Perché Non ce la faccio più Scusate se l'audio E' ovvattato Ma non ci posso fare niente Cioè Stiamo scherzando La mia voce Comparendo Mamma mia ragazzi Ok abbiamo segnato L'importante è quello Ok Adesso ragazzi sono carico Adesso non mi contengo Fino a 20 minuti Adesso posso esprimere Tutto quello che mi va Tutto quello che Voglio esprimere E quindi Voglio esprimere Un appello A tutti quanti Lasciate like E commentate Se ancora non lo avete fatto Perché iscrivetevi Ve l'ho già detto prima Quindi me lo risparmio Ok Siamo a 16 minuti Di registrazione Io direi che facciamo Le ultime due partite Ragazzi Perché A parte che la mia voce È distrutta Ma per raggiungere I 20 minuti Quindi il video Di media Di media durata Cioè Tecnicamente Dovremmo raggiungere I 20 minuti a video Perché vorrei portare Almeno i video Di 20 minuti Appunto Quindi ragazzi Faremo le ultime due partite Sia per la voce Che per il tempo E niente Oh Attenzione Ti distruggo l'orso Io te lo distruggo Io non ti preoccupare Bravo Mi è piaciuta Quella mossa che ha fatto Devo dire la verità Ragazzi Mi ha sorpreso Eh Beh Sì Concordo Allora Ovviamente ragazzi Dopo questa Ne facciamo un'altra Perché Ve l'ho già detto Poco fa E Quindi ragazzi Proviamo a vincerla Sperando di vincere Più che altro Occhio Che se ci segnano Ah 1-0 Per l'oro Gravissimo Raga No No Non ci stavo mancando Non ci credo ragazzi Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ok ragazzi Ultima partita Di questo video La mia voce Vi ripeto È distrutta Non faceci caso È proprio andata La mia voce Ragazzi E Appena finiamo Io direi che vi saluto Subito Perché non chiedo Neanche i like Per i nostri iscritti Per tutto il video Ragazzi Avete capito Quindi Ci salutiamo Direttamente E Ok ragazzi Stiamo andando Signore E non ce l'abbiamo Fatta Va bene Va bene Abbiamo ancora Due minuti A disposizione Per poter fare Una delle nostre provate O magari provare Almeno a vincere La partita No Quindi Perfetto Ok No 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 Dannazione Ragazzi Dannazione Odio Quando succedono Queste cose Mi viene nervoso Ragazzi Spero che Vi ne siete Cioè Credo che Vi ne siete accorti Tutti quanti Quando succedono Queste cose Mi cambia Completamente Il tono Di voce Altro che Mal di gola Qua diventa Mal di Non lo so Di che cosa Diventa un mal di